Siamo entrati due anni fa nelle istituzioni dicendo che nessuno doveva rimanere indietro. Per noi era un cavallo di battaglia importante e un tema concreto da mettere nell'agenda politica. Ci abbiamo messo due anni, è servita una marcia tra Perugia ed Assisi con 50.000 persone per rimettere al centro dell'attenzione un problema reale, che è quello legato al reddito e alla dignità della persona. Abbiamo fatto proposte a livello parlamentare e a livello regionale e questa mattina Maroni ha detto che apre e che vuole proporre e sperimentare il reddito di cittadinanza in Regione Lombardia. Abbiamo una proposta di quasi un anno e mezzo fa che abbiamo depositato come consiglieri del Movimento 5 Stelle. Chiediamo a Maroni, siccome è un intervento sempre più urgente vista la crisi di questi ultimi anni, di farlo velocemente, di trovarci ad un tavolo e di partire da domani mattina per cercare di inserire questa sperimentazione nel più breve tempo possibile.